Impariamo come mostrare i dati in output in javascript. Ciao, io sono Michele e oggi vediamo quali sono le opzioni di javascript per mostrare i dati in output. Sono sostanzialmente quattro. La prima è quella di poter modificare direttamente l'html all'interno di un tag. La seconda è quella di poter scrivere proprio nell'intero documento html e sovrascriverlo. La terza è quella di poter fare dei pop-up di avviso. La quarta è quella di poter fare dei log, quindi delle scritte, nella console degli strumenti da sviluppatore del browser. Bene, andiamo diretti nell'ambiente di sviluppo e vediamo come fare e come possono tornarci utili. Bene, siamo dentro l'ambiente di sviluppo, allora vediamo di creare un paragrafo dove ospitiamo il testo che verrà scritto dal nostro programma. Faccio un po' più grande, con ctrl più ingrandisco. Bene, con p dichiaro un paragrafo e gli do un id in maniera tale da poterlo riconoscere in maniera univoca dal mio codice javascript e lo chiamo tutorial. A questo punto qui lo lascio vuoto e vediamo di scriverci qualcosa, lo utilizziamo come bersaglio, come target del nostro script. Questa qui è la solita pagina, il solito esercizio che abbiamo utilizzato in varie parti di questo minicorso dedicato alla programmazione web con javascript. Per semplicità vado a togliere il collegamento al app.js che abbiamo già usato altre volte e vado a dichiarare in fondo al body una sessione script. e vado a mettere lo scripting che voglio imparare e che voglio esercitare in questo video. Allora, javascript ha la possibilità di mostrare in output, di fare il display di valori o di quello che vogliamo in quattro modalità. Le vediamo una alla volta. La prima è quella di scrivere all'interno di un tag HTML con innerHTML. La seconda è quella di scrivere tutto il documento, scrivere nell'intero documento HTML. Poi vediamo che cosa si intende nel dettaglio. Scrivere in una casellina di alert, di avviso. E infine scrivere nella console del browser. Come abbiamo fatto in tantissimi esempi. Questo si fa con document.write Questo si fa con window.alert E questo si fa con console.log L'abbiamo visto tante volte ormai. Adesso li vediamo una alla volta. Bene, allora partiamo dal primo. Lo facciamo qui e scriviamo all'interno di un tag HTML con innerHTML. Facciamo che questo script è document.getElementById. Quindi recuperiamo l'elemento HTML della nostra pagina con il suo nome, con il suo ID. Il suo ID è tutorial. Lo mettiamo qua. Cosa facciamo appunto? InnerHTML. Ci mettiamo Nell'esito di un'operazione per esempio. 5 Più 7 Quindi in teoria dovremmo trovarci scritto sotto paragrafo molto più bello di prima. Ci dovremmo scrivere un bel 12. Vediamo se è vero. Eccolo qui. Abbiamo trovato il 12. Metto il corso rosso. Se no non si vede. Eccolo qui. Questo metodo è molto comodo quando vogliamo abbiamo dell'HTML che costruiamo dinamicamente oppure vogliamo cambiarne una parte o inserire dei pezzi dinamicamente con delle elaborazioni in JavaScript. Andiamo ad utilizzare a prendere un documento nel nostro foglio HTML, lo identifichiamo, ci prendiamo il suo inner HTML, c'è la parte internal tag e ci mettiamo quello che vogliamo. In questo caso avevamo un banale 12. Adesso abbiamo scrivere nell'intero documento HTML con document.write. Document.write lo metto qua solo per testo. Non ha in realtà scopi utili per un sito vero e proprio perché guardate che cosa succede. Sostanzialmente sovrascrive tutto l'HTML di una pagina. Quindi se io faccio document.write e ci metto anche un testo libero fisso, così, io torno nel mio browser e faccio F5, mi scrive in fondo. In realtà può avere un effetto, cioè se noi andiamo ad utilizzare document.write dopo che l'intero documento HTML è stato caricato dal browser, otteniamo proprio una sovrascrittura completa, tipo così. Vado per esempio a dire che all'onclick di questo pulsante faccio document document.write e ci metto sovrascrittura. Chiudo, salvo, questo lo tolgo, salvo, ricarico. Quindi questo pulsante adesso eseguirà la sovrascrittura completa. Eccolo qua, ho sbagliato a scrivere, mi hanno messo una B al posto di una V, ma poco importa per il concetto da dimostrare. F5, ripremo il pulsante, eccolo qua. Ha completamente sovrascritto tutto, non c'è più niente della mia pagina originale. Ok, proseguendo abbiamo le scrivere in una casellina di alert o di avviso con Windows, Windows, no Windows, Windows.alert, lo proviamo subito. Allora, invece che document.write e sovrascrittura, restiamo sempre qui al click, che è comodo. E faccio, Windows.alert, messaggio di avviso. Chiudo l'apice, chiudo la parentesi, salvo, riapro, quindi questo è il mio sito tornato sano, premo il pulsante e cosa succede? Che devo correggere il window, ce l'ho con questa S di Windows, torno qui, ricarico. Eccolo qui, messaggio di avviso. Ok, eccolo qui, questi pop-up che vengono fuori nel browser. Infine, lo diciamo per completezza, ma ormai lo conosciamo molto bene, è il nostro console.log. console.log, messaggio di avviso, che scrive nella console, scrive un messaggio, un output nella console del browser. Lo salviamo, andiamo subito ad aggiornare F5, F5, F5. Faccio qui, ovviamente qui non vedo nulla, per vederlo faccio F12, strumenti da sviluppatore. Nel momento in cui vado su, resto qui sulla scheda console, faccio di nuovo il click, facendo di nuovo il click mi va su qui, messaggio di avviso, 27, 28, perché non cambio mai il messaggio. E quindi mi compatta il, mi fa un conteggio di quante volte è successo. Eccolo qui, lo conosciamo bene ormai, è lui. Bene, e in questo video così l'hai completato e imparato tutti i modi che JavaScript metti a disposizione per mostrare i dati. Se questo video ti è piaciuto e hai imparato qualcosa di nuovo, metti un mi piace e iscriviti al canale, così sarai notificato sulle nuove uscite. Ciao! Ciao!